Prima, Buschetto! Il numero uno, Corallini! Intendo la prima piega, sempre Capoclasse! E Capoclasse! Alla seconda piega! Capoclasse, Corallini! Ed è la domini! Cavalli finiti! Ancora Capoclasse! Ciusura del primo giro! Inizia il secondo giro! Il numero uno, il primo giro! Ed è plegato ancora Capoclasse! Corallino è il secondo giro! Corallino è il secondo giro! Attenti! Avviva Capoclasse! Si va all'esterno ora! Il secondo giro! Prima rottura per Corallini! Corallino prima rottura! Ancora Capoclasse! Rottura per Corallino! Basta! In seconda posizione! Ed è la domini! Si fa l'attacca di Capoclasse! Un e due in atto scelto! Ed è la domini! Attacco Capoclasse! Ed è l'ultima piega! Ed è l'ultima retta! Ancora Capoclasse! Si va di fuori Ed è la domini! Ed è la domini! Capoclasse! Ed è l'arrivo! Ultima piega! Ed è la domini! Grazie.